Il presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha partecipato alla conferenza promossa dalla rete nazionale e internazionale dei Paesi dell'Acqua. Di Maria ha definito l'acqua un bene essenziale che deve trovare in prima linea nella sua difesa e valorizzazione le istituzioni pubbliche. A tale proposito, la conferenza che ha inquadrato il tema della tutela dell'acqua sotto diversi punti di vista, con la partecipazione di esperti qualificati internazionalmente, promossa da Marco Iamiceli, presidente dei Paesi dell'Acqua, costituisce, ha dichiarato Di Maria una iniziativa di grandissimo rilievo politico e culturale. Il Sannio, ha affermato Di Maria, possiede con la risorsa acqua una straordinaria ricchezza che deve essere assicurata in godimento alle future generazioni. Il massiccio del Matese, le sorgenti dei fiumi Tammero e Titerni, il Calore e il Sabbo, del Fortore, l'invaso di Morcone e Campolattaro, scanditi e presenti dalla provincia, fanno del Sannio un importantissimo punto di riferimento nazionale per quanto riguarda il patrimonio idrico e quindi ambientale. Grazie al partenariato costituito attraverso la Rete Nazionale e Internazionale dei Paesi dell'Acqua, a proseguito Di Maria, il territorio sannita si candida ad essere protagonista delle politiche ambientali del prossimo futuro, innescando processi virtuosi in grado di generale ricadute economiche e filiere legate all'innovazione e al turismo di genere. La difesa della risorsa acqua che nasce nelle aree montane necessita, a proseguito Di Maria, della presenza dell'uomo proprio nelle aree meno antropizzate, al fine di garantie la stessa essenziale risorsa etica. Invece oggi, a proseguito Di Maria, si assiste ad una costante fuga dei residenti dalle aree interne verso le aree metropolitane. Il presidio dell'uomo per la tutela delle acque e dei beni del patrimonio ambientale costituisce invece, a proseguito il presidente Di Maria, un elemento essenziale per l'equilibrio dell'ecosistema. La manutenzione del territorio delle aree montane è fondamentale. Occorre pertanto una vera rivoluzione culturale, a spero di Maria. Le aree montane non costituiscono un costo per la collettività nazionale, al contrario esse sono una risorsa anche dal punto di vista della tutela dell'ecosistema. La crisi delle imprese e del commercio in Campania, determinata dagli effetti dell'emergenza pandemica, può e deve essere tramutata in opportunità di crescita, sfruttando al massimo le risorse in arrivo con il Recovery Fund e con la riprogrammazione dei fondi europei. Un'opportunità che saremo in grado di cogliere soltanto se faremo rete con tutti i comparti coinvolti. Da tempo sto chiedendo di istituire un tavolo permanente con le rappresentanze dei settori economici della Campania, una proposta che sarà contenuta in una mozione che riproporrò all'aula del Consiglio. Siamo alla vigilia di un'emergenza sociale senza precedenti per la nostra regione ed è assolutamente necessario che le istituzioni facciano quadrato con i rappresentanti di tutti i settori produttivi. Solo così possiamo aiutare la Campania a risollevarsi. Lo ha dichiarato la Vice Presidente del Consiglio regionale della Campania e Capogruppo regionale Movimento 5 Stelle a margine del confronto dal titolo Se muovono le imprese, l'Italia non ha il futuro, organizzato dal Confocommercio Campania con i rappresentanti campani delle diverse forze politiche. In Consiglio regionale abbiamo fatto approvare le commissioni speciali a reinterne innovazione e digitalizzazione perché siano luogo di confronto istituzionale di riferimento per tutte le categorie. Abbiamo inoltre depositato una proposta di legge per il rilancio delle imprese campane e fatto finanziare nella scorsa legge di bilancio ai distretti del commercio, uno strumento importante per far ripartire il commercio e sul cui di impessivo avvio vigileremo con attenzione. Ora è importante cogliere tutti gli strumenti finanziari e le opportunità offerte a partire dalla Blue Economy che mira a rivoluzionare l'economia sfruttando le energie rinnovabili e tutte le opportunità offerte dal nostro mare. Dobbiamo inoltre progettare una ristrutturazione organica delle infrastrutture di rete che coinvolga anche il sistema portuale e aeroportuale, puntare sulle nostre eccellenze sostenendo quelle esistenti e faurendo la nascita di nuove. Ed è necessario lavorare al rilancio del turismo adeguando i trasporti diversificando l'offerta con l'inclusione delle aree interne e promuovendo i poli fieristici fondamentali sia per il turismo congressuale quanto per l'export. Secondo il virologo e il professore Fabrizio Pregliasco, la prossima estate potremo godere di un clima più sereno grazie alla campagna vaccinale che sembra aver ingranato la giusta marcia. Probabile un 20-30% dei vaccinati che potrebbero rallentare sensibilmente la curva di contagio, complice del bel tempo che permetterà alle persone di stare all'aperto. Sono ottimista per quanto riguarda la prossima estate, ha dichiarato il virologo. Bisogna però andarci con i piedi di pombo. Se raggiungeremo buoni livelli di vaccinazioni con le somministrazioni terziere o per i più fragili, avremo risultati positivi che ci permetteranno di essere un po' più sereni. Lo abbiamo visto con i dati tra gli ottantenni, così come quelli per gli operatori sanitari dell'RSA. Qui in particolare il 40% delle persone sono vaccinate e non vi sono più stati focolai. Abbiamo visto dati promettenti anche in Gran Bretagna, dove si delinea sempre di più la fine del tunnel. La prossima estate dovrebbe permetterci di avere una convivenza più civile con il virus, ma è importante non fare un libera tutti eccessivo come la scorsa estate. Difficile poter un anno di maratone tra chiusure e aperture. Certo, come conferma il virologo, il nuovo calateo del Covid dovrà essere rispettato. Vedremo sull'obbligatorietà della mascherina, dice ancora Pregliasco. Il suo utilizzo è stato un elemento importante per rallentare la diffusione. Infatti l'influenza e le infezioni respiratorie hanno fatto appena capolino con le mascherine. Questo è indice dell'efficacia di questi dispositivi. I creatori di Pfizer hanno già previsto che alcuni paesi potranno vedere alle loro spalle la pandemia già dal prossimo autunno. Cosa possiamo aspettarci con l'arrivo delle varianti? Secondo il virologo, un modello dell'Istituto Superiore di Sanità ha appaventato un ritorno alla normalità dai 7 ai 13 mesi. Il virologo Pregliasco spiega che tutto è legato al successo di alcuni parametri della vaccinazione. Le categorie più fragili dovranno vaccinarsi ancora, fare dei richiami, spiega. Non ci libereremo del virus, otterremo una convivenza non pericolosa. Dovremmo organizzarci. Tutto dipende da quante persone si vaccineranno, dall'immunità dei più fragili e ci auspichiamo anche punti di produzione per i vaccini in Italia. Nelle prossime ore arriverà in Italia un milione di dosi del vaccino di Pfizer e il governo è pronta ad aiutare le regioni che stanno avendo più difficoltà nell'organizzazione delle vaccinazioni e che procedono a rilento soprattutto nell'immunizzazione degli over 80 che è ferma al 40% circa del totale e che invece, come dimostra lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità sugli effetti del vaccino nell'RSA, ha un impatto fondamentale sulla riduzione di casi e decessi. L'incidenza ha raggiunto nell'ultima settimana di febbraio e nelle prime due di marzo valori sovrapponibili o inferiori a quelli di ottobre, in controtendenza rispetto all'andamento dell'epidemia. Menti decessi sono passati dal picco nella settimana 9-15 novembre con circa l'1,3% dei residenti allo 0,6%. L'esecutivo prova a imprimere un'accelerazione alla campagna vaccinale, anche se sembra ormai chiaro che non verranno mantenute le previsioni indicate nel piano del Ministero della Salute per il primo trimestre. Entro fine marzo l'Italia disporrà infatti di 14 milioni di dosi, quasi 1.700.000 in meno di quanto previsto. Il lotto del siero dell'azienda sanotidenza è il più consistente finora spedito in Italia e verrà distribuito in 214 strutture sanitarie in tutto il Paese. Un abboccavo d'ossigeno importante, visto che si tratta del vaccino utilizzato per i soggetti fragili e vulnerabili, anche se le aspettative erano ben altre. Entro la fine di marzo l'Italia avrebbe dovuto disporre di 15.694.998 dosi, ma è probabile che ne mancheranno circa 2,6 milioni, a meno che non ci sia una maxi consegna da basta di AstraZeneca. Con le dosi di Pfizer in arrivo nelle prossime ore, le 336.600 di Moderna già consegnate e le 279.000 di AstraZeneca previste per la settimana, si arriverà a quasi 11,2 milioni, ai quali dovrebbero aggiungersi in consegna la prossima settimana un altro milione di Pfizer, circa 500.000 di Moderna e probabilmente altre 300.000 del vaccino anche in inglese, per un totale di 13 milioni, 2,6 milioni in meno dunque che dipendono fondamentalmente da AstraZeneca. Che farà l'azienda anglo-svedese? Certezze al momento non ce ne sono ed è anche questa una delle questioni che sarà affrontata nel corso e ennesimo incontro di lavoro a Palazzo Chigi, tra il presidente del Consiglio Mario Draghi, il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo e il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. L'altra questione è invece il coordinamento delle regioni, della quale il Premier ha parlato anche con il Ministro per gli Affari regionali Maria Stella Germini. Come prima mossa è stato attivato il volontariato di protezione civile. Le regioni che ne faranno richiesta potranno utilizzare i volontari. Nell'ambito di un'inchiesta diretta dalla Procura di Napoli, la Guardia di Finanza, Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, ha disvelato l'esistenza dei due sodalizi criminali, dediti con modalità organizzate e professionali, alla raccorta indiscriminata di datteri di mare nel Golfo Partenopeo. La specie marina è protetta da diverse convenzioni internazionali e direttive comunitarie ed anche a livello nazionale il livello di cattura, detenzione e commercializzazione risale all'anno 1988. La speciale tutela, giustificata dal grave e irreparabile danno che subisce la scogliere e l'ecosistema sottomarino, a seguito della frandumazione necessaria ad estrarre i pregiati molluschi, i quali necessitano di almeno 30 anni per incunearsi nella roccia calcare e raggiunge così una misura idonea alla collocazione commerciale. Le indagini sono durate oltre tre anni e hanno disvelato l'esistenza di un vasto mercato illecito avente ad oggetto la specie protetta, con le due organizzazioni che avevano stabilito un vero e proprio rapporto di mutua assistenza per procacciare il prodotto ittico, specie nei periodi di maggiore domanda, quasi sempre in coincidenza delle festività natalizie e pasquali, quando per un kilo di datteri gli acquirenti erano disposti a pagare fino a 200 euro. Gli appartenenti ai due gruppi delinquenziali si dedicavano in maniera costante ed abitudinaria sia al prelievo dei datteri di mare catturati mediante la contestuale distruzione di interi tratti di scogliera campana, che alla successiva commercializzazione degli stessi presso numerosi ristoranti e pescherie della regione, nonché presso una variegata clientela composta anche da esponenti di famiglie malavitose. Sono in particolare oltre 100 i soggetti individuati nel corso delle indagini, a vario titolo operanti nell'ambito del mercato nero del dattero di mare. Nelle conversazioni intercettate viene spesso utilizzato un codice segreto per evitare il riferimento esplicito alla specie protetta, nella piena consapevolezza della illicità del relativo commercio. I reati contestati sono consumazione di delitti ambientali, inquinamento e disastro ambientale, danneggiamento e ricettazione. Nei conflitti di sei indagati è stata adottata la misura custodiale in carcere. Trattasi dei vertici dei due esodalizi, denuti responsabili della devastazione ecosistemica cagionata attraverso lo spregiudicato prelievo dei datteri dalle coste di Napoli e Capri. Per altri sei è stata invece decisa la custodia domiciliare. Quattro saranno obbligati a presentarsi quotidianamente presso gli uffici della Polizia e giudiziaria e per tre sono disposti il divido di dimora. In particolare due militari indagati per favoreggiamento e rivelazioni segre d'ufficio non potranno dimorare nella Regione Campania. I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli Nord hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord che ha disposto cinque misure cautelari personali e il sequestro preventivo per quasi un milione di euro nei confronti di soggetti indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata all'abusivismo finanziario, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. Le indagini delle fiamme gialle avviate a sé di segnalazioni di operazioni sospette relative ad anomali movimentazioni connesse a donazioni hanno consentito di accertare l'operatività di un sodalizio criminale che attraverso la Costituzione e una fittizia associazione no profit ha proposto investimenti finanziari altamente remunerativi nel settore delle criptovalute e dell'oro in assenza di qualsivoglio titolo autorizzativo. Gli accertamenti hanno portato alla luce un sistema criminale radicato nella provincia di Napoli ma operante sull'intero territorio nazionale per il tramite una rete di procacciatori che utilizzando applicazioni messaggistiche istantanea hanno promosso gli investimenti attraverso gruppi motivazionali in grado di coinvolgere oltre 2.200 risparmiatori presso cui sono stati raccolti 6.396.000 euro bonificati su conti correnti nazionali ed esteri sotto l'apparente veste di erogazione liberale all'associazione no profit. Il sistema per coinvolgere il maggior numero di investitori era quello del passaparola con l'accortezza di reclutare soltanto gente conosciuta e l'avvertenza che non era possibile la restituzione immediata degli investimenti. Il prossimo che insinua che non abbiamo soldi per pagare perché è talmente viziato da pretendere il pagamento immediato ne subira le conseguenze. In alcuni casi facendo leva sull'emotività le donazioni erano sollecitate per fronteggiare la serie difficoltà economiche di alcuni associati. Oggi siamo venuti a conoscenza che un nostro membro è in serie di difficoltà e rischia di perdere la casa. Abbiamo appreso che una famiglia nell'alluvione ha perso tutto e si trova senza neppure indumenti con due bambini. Ora siamo una grande famiglia. Dalla ricostruzione dei flussi finanziari è emerso che il capo dell'associazione ha tratto profitti illesi per 700.000 euro cercando poi di evitare il sequestro dei propri beni attraverso un finto contratto preliminare di compraventia di un terreno per giustificare la perdita della capale 275.000 euro attribuita fittiziamente all'originario proprietario. L'attività di servizio in esecuzione in Liguria, Campania e Puglia con il supporto dei reparti alla sede di Bari, Lecce e Savona dimostra il costante impegno della Guardia di Finanza a tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati finanziari. Grazie a tutti! Grazie a tutti!